Approvato l'assessamento al bilancio di previsione. Dubbi sulla collocazione del nuovo ospedale dell'Asleto 4 nell'area ex Montefibre. Sciopero a mondo convenienza di settimo, la situazione è monitorata. Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati via Libera dell'Aula. Maggioranza al DDL e assessamento del bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Il Consiglio regionale da martedì scorso si riunisce in Sala Aviglione al primo piano nobile di Palazzo Lascaris. L'Aula consigliare infatti sarà interessata nelle prossime settimane dalla prima tranche di lavori per il suo completo restauro. Con 26 voti favorevoli e 18 contrari, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza l'assessamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Il relatore di maggioranza Federico Perugini, Lega, ha spiegato che il disegno di legge serve ad aggiornare le scritture contabili sulla base del rendiconto generale 2022 approvato dalla Giunta. Possiamo considerarlo un atto intermedio in previsione delle variazioni di bilancio che prima della fine dell'anno interverranno e che sostanzialmente determinano appunto l'assessamento e userei un termine non appropriato ma un riequilibrio delle scritture contabili. Il relatore di opposizione Silvio Magliano Moderati ha evidenziato tra gli emendamenti quello per garantire l'intervento a sostegno del Consorzio del Polo delle Arti per la ricollocazione e l'ampliamento dell'Accademia Albertina e del Conservatorio Giuseppe Verdi all'interno del complesso della Cavallerizza Reale. Un altro emendamento è mirato a permettere non solo l'acquisto di alimenti per i bisognosi ma anche farmaci e parafarmaci. L'altra relatrice di opposizione Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, ha rimarcato il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti che avrebbe anche contestato la modalità con la quale viene presentato l'assestamento di bilancio, un aspetto sottolineato anche da Maurizio Marello, Partito Democratico, nel corso del dibattito generale. Sono quattro anni che per quanto riguarda le politiche di bilancio abbiamo assistito ad una carenza di programmazione, spesso a un'improvvisazione e sappiamo che l'improvvisazione non ci aiuta a spendere bene i soldi. L'assessore Maurizio Marrone ha illustrato l'emendamento che con una copertura finanziaria di 50.000 euro estende il sostegno dato al Banco Alimentare e anche alla realtà del Banco Farmaceutico. Un assestamento che come tutti gli anni va in linea con quello che è l'equilibrio di bilancio e sostanzialmente dopo la parifica se ci saranno bisogno di variazioni le faremo. Il Consiglio regionale ha approvato i criteri per la definizione annuale del piano regionale di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado. Approviamo questo provvedimento in tempi più brevi rispetto al solito, ha spiegato l'assessore all'istruzione Elena Chiorino. Così aiutiamo i territori ad avere più tempo per definire il dimensionamento nelle varie province, in particolare nelle aree e nei territori marginali in cui saranno mantenuti i presidi scolastici. Perplessità sulla collocazione nell'area ex Montefibre del nuovo ospedale Aslato 4 è stata espressa da una delegazione di sindaci del territorio interessato ricevuti in audizione a Palazzo Lascaris. Circa 50 sindaci del Canavese occidentale, della Val Chiusella e di parte dell'Eporediese sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio Stefano all'Asia e da numerosi consiglieri della maggioranza e dei gruppi di opposizione per esporre le ragioni della contrarietà alla scelta dell'area ex Montefibre per la costruzione del nuovo ospedale dell'Asl Torino 4. Nei vari interventi i primi cittadini hanno parlato di scelta politica esponendo le problematiche legate all'area che sorge in una zona già fortemente urbanizzata con difficoltà rispetto alla viabilità e alla possibilità per tutti gli utenti delle zone interessate di raggiungere il nuovo ospedale in 20 minuti come prevedono le moderne linee guida riconosciute a livello mondiale. Inoltre la scelta obbligherebbe a costruire un ospedale a sviluppo verticale considerato oggi non idoneo in termini di sicurezza e di logistica. Mi farò portavoce delle vostre istanze, ha detto il Presidente all'Asia a conclusione dell'incontro e faremo le opportune valutazioni per proseguire la discussione anche alla luce della documentazione che avete fornito. Presente anche l'assessore per i rapporti tra Giunta e Consiglio Maurizio Marrone che ha sottolineato che ferma restando l'importanza del passaggio in assemblea dei sindaci la pianificazione della rete ospedaliera spetta al Consiglio regionale che dovrà essere quindi l'Aula ad assumersi la responsabilità di votare la proposta che verrà presentata dalla Giunta. Via libera da parte dell'Aula con 24 voti favorevoli e 17 contrari alla proposta di legge relativa alla nuova disciplina dei sottosegretari. Il testo è composto da sei articoli. La relazione di maggioranza è stata svolta da Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia, che ha illustrato il provvedimento sottolineando che la proposta è finalizzata a disciplinare in particolare lo stato giuridico e il trattamento economico dei sottosegretari. Per il Movimento 5 Stelle è intervenuto Shonsacco, contrario soprattutto all'articolo 4 nella parte in cui prevede l'esenzione dal pagamento delle auto di servizio da parte degli assessori. Rolando Picchioni e Giampiero Clement sono stati ricordati dall'Aula con un minuto di silenzio. L'Aula ha commemorato le figure degli ex consiglieri Rolando Picchioni e Giampiero Clement. Rolando Picchioni, scomparso lo scorso 23 marzo a 87 anni, ha presieduto l'Assemblea legislativa dal 1995 al 1998. È stato un grandissimo personaggio della vita politica e culturale torinese. Nel 1999 assunse la carica di segretario generale della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, di cui poi divenne presidente nel 2005, organizzando tutte le edizioni del Salone del Libro e portando la Kermess torinese a essere il punto di riferimento nazionale per il mondo dell'editoria. Giampiero Clement, scomparso lo scorso 6 maggio a 66 anni, venne eletto consigliere regionale nel 2005 e si occupò in particolare di tematiche riguardanti il mondo del lavoro in Piemonte. È stato particolarmente attivo in campo sindacale. Come presidente della settima commissione Industria, Lavoro, Formazione Professionale, è stato sensibile, attivo verso le questioni del mondo del lavoro in Piemonte. La situazione di crisi al magazzino Mondo Convenienza di Settimo Torinese al centro del Question Time che la consigliera Sara Di Sabato ha rivolto all'assessore Elena Chiorino. Lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Mondo Convenienza a un centinaio di autotrasportatori, magazzinieri e montatori di Veneta Logistics, società che ha in appalto la gestione del magazzino di Settimo Torinese, è stato l'oggetto del Question Time che la consigliera del Movimento 5 Stelle, Sara Di Sabato, ha rivolto all'assessore regionale al lavoro Elena Chiorino, a cui è stato chiesto se la regione intenda o meno prendere parte al tavolo in prefettura a Torino per avviare un'interlocuzione con l'azienda e i sindacati. Gli uffici dell'assessorato non hanno ricevuto alcuna convocazione, ha spiegato in aula l'assessore Elena Chiorino. Ci tengo comunque a precisare che siamo stati e saremo sempre al fianco dei lavoratori per garantire loro la tutela della dignità del lavoro, anche in questa occasione, ma sempre nel rispetto del ruolo e delle procedure. Dunque, solo per fare chiarezza, la regione non era seduta a quei tavoli non perché non volesse, ma perché al momento la procedura non lo prevede. Ciò non toglie che la situazione non sia stata monitorata informalmente. Siamo in chiusura nel salutarvi. Vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Un sito, lo vedete, che è stato interamente rinnovato grazie al lavoro congiunto dei settori sistemi informativi Ufficio Stampa con la collaborazione tecnica del CSI Piemonte che mette al centro trasparenza, facilità di utilizzo e apertura verso la cittadinanza. Per questa edizione è tutto. Arrivederci!